Dance Dance Dance, il nuovo conduttore è Nicolò De Vitis Dance 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 su Sky, quando inizia, chi sono i conduttori e chi partecipa. Per gli amanti dei talent show, cè una piacevole sorpresa in arrivo. A partire da gennaio 2018, tornerà in televisione il programma televisivo Dance Dance Dance. Per chi non lo conoscesse, questo show è stato ideato nel 2016, da John Mall, la cui produzione e trasmissione è stata affidata a Fox Life e Fox. Il programma consiste in una gara di ballo, che vede come protagonisti personaggi famosi, in particolare provenienti dalla televisione. Di fatti, alcuni media, l'hanno paragonato a Ballando con le stelle, per indiscusse analogie. La prima edizione, andata in onda dal 26 dicembre 2016, per un totale di 12 puntate, ha visto come conduttori Andrea Delloglu e Diego Passoni. . Di recente, è stata confermata la seconda edizione dello show, sempre in onda su Fox, ma con la possibilità di replica su TV8. . Come riporta Fantage.it, accanto alla confermata Andrea Delloglu, ci sarà un talento nascente, per dire, della televisione italiana. . Si tratta di Niccolò De Vitiis, il 27enne romano con una buona esperienza in termini di conduzioni. . I due saranno una coppia efficace. . . Dance 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 ha un nuovo protagonista, chi è Niccolò De Vitiis?. . Niccolò ha bruciato le tappe, sin dal principio ed oggi è uno dei migliori interpreti del suo mestiere. . Agli esordi come Bickelodger sul web, ha compiuto il grande salto entrando a far parte della grande squadra delle Iene, in qualità di inviato. . . In seguito, ha avuto la possibilità e la fortuna di condurre Goldiei Ai, assieme alla bellissima diletta Leotta. . Il suo ultimo lavoro è stata il Wind Summer Festival e adesso questa nuova avventura. . . Anche in queste occasioni avrà una donna al suo fianco, ad accompagnarlo in questo progetto. . Le qualità ci sono senz'altro, vedremo come gestirà il tutto il giovane conduttore romano. . Scopriamo alcuni partecipanti di Dance Dance Dance. . Niccolò e Andrea debutteranno con Dance 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 all'inizio del prossimo anno. . La trasmissione avrà come partecipanti volti noti al pubblico italiano, come Claudia Gerini, Giulio Berruti e Marco Del Vecchio. . . La giuria rimarrà invariata invece. . Aspettiamo con ansia gennaio, per goderci questo nuovo spettacolo. .